Oggi andiamo a realizzare questo bellissimo punto. Sono margherite in 3D. Sono composte ciascuna da 10 maglie alte sormontate da un pippiolino e sono poggiate su una base di punti alti. Questo punto è adatto per realizzare degli orli a maglie, cappelli, scialli, anche borse. Ovviamente cambia l'estetica del punto a seconda del filato che andiamo ad usare. Quindi diverso sarà se usiamo la lana e quindi la margherita apparirà più grande oppure il cotone come in questo caso, il filo di scozia. Quindi la margheritina sarà più piccolina, più graziosa. Possiamo decorare le gonnelline delle nostre bimbe e fare una miriade di cose. Anche una copertina realizzata con i filati sia in lana baby, in bambù, in cotone, saranno bellissime. Con l'uncinetto adeguato al filato che andiamo ad utilizzare, iniziamo con una catenella di base che deve essere composta da un numero di punti multiplo di 8 più 4 finali. Io ripeterò il punto come nell'esempio qui che vi sto mostrando, 5 volte, quindi farò 5 volte 8 per un totale di 40 catenelle più 4 finali. Realizzate le 44 catenelle, ne aggiungo 2. Entro con l'uncinetto dopo aver caricato il filo, nella quarta catenella dall'uncinetto e realizzo una maglia alta. Ripercorro tutta la catenella a maglia alta. Alla fine dovrò avere 44 punti alti, contando come punto alto anche le prime 3 catenelle che abbiamo realizzato all'inizio del giro. Realizzati i miei 44 punti alti, comincio il secondo giro, dove inizierò anche a realizzare le margherite. Dunque, 3 catenelle per sostituire la prima maglia alta, volto il lavoro, entro nel secondo punto alto e ne realizzavo uno, un altro, sono 3, 4, 5, ho fatto 8 punti alti, ora e faccio 4 catenelle, poi entro con l'uncinetto tra i due punti alti ultimi che ho realizzato e realizzo un punto basso. Poi prendo il filo sull'uncinetto, rientro dove ho realizzato l'ultima maglia alta e faccio una maglia alta. Di nuovo un pippiolino con questa tecnica, 4 catenelle e una maglia bassa tra le due maglie alte. Quindi prendo il filo. In questo modo il pippiolino viene molto evidente. Di nuovo vi faccio vedere. Quindi una maglia alta e un pippiolino con 4 catenelle ed una maglia bassa realizzata tra le ultime due maglie alte. Ripetiamo questo per 10 volte. Ho realizzato i 10 punti alti sormontati da un pippiolino, tutti nello stesso punto, quindi dove ho realizzato l'ottava maglia alta. Allargo l'asola dell'ultimo punto, rientro qui nell'asola della settima maglia alta. Prendo la solina che ho lasciato, la pesco e la tiro dall'altra parte. Chiudo la margherita che da sola si andrà a posizionare sul davanti del lavoro. Realizzo una catenella e procedo con le maglie alte. Quindi devo realizzare la maglia alta qui nella prima successiva. Qui ho lavorato le 10 maglie alte. Nella successiva vado a realizzare la prima delle otto maglie alte che divideranno una margherita dall'altra. Questa l'ottava maglia alta. A questo punto ricomincio con i pippiolini, quindi le 4 catenelle e la maglia bassa. Così per altre 10 volte per un'altra margherita. Finisco il giro e vi mostro come realizzare l'altro giro in posizione alterna. Realizzo l'ultima margherita del giro. Chiudo, faccio la catenella. Sul giro mi sono rimaste 4 maglie alte da realizzare. Quindi le realizzo e chiudo tutto il giro con 5 margherite. Perché come ricorderete abbiamo dato inizio al lavoro con 44 maglie alte. Ecco qui, abbiamo realizzato le nostre margherite. Sono qui. Dobbiamo adesso fare il giro di ritorno. Il giro di ritorno è semplicemente il rovescio del lavoro. Cioè ciò che rimarrà nascosto alla fine dietro alla margherita. E nel rifare il giro dobbiamo accertarci di non saltare né doppiare nessuna maglia. Quindi iniziamo con le solite 3 catenelle. Giriamo il lavoro e realizziamo le maglie alte che dovranno essere 44 così come era al primo giro. Ora arriviamo dietro la margherita. E vi mostro. Voi tenete presente che noi quando chiudiamo la margherita realizziamo una catenella. Eccola. E' qui che dobbiamo realizzare la maglia alta della margherita. Cercando di prendere entrambe le asole della catenella e realizziamo la maglia alta della margherita. Poi c'è qui un'altra maglia alta che resta nascosta dietro e dobbiamo realizzare anche questa. E poi continuare così. Quindi accertiamoci di realizzare tutte e due le maglie alte che restano nascoste dietro. E arriviamo alla fine del giro con 44 maglie alte. Completato il giro di 44 maglie alte per il ritorno, ricominciamo il quarto giro con 3 catenelle. Voltiamo il lavoro e facciamo in tutto 4 maglie alte. Quindi la prima è sostituita dalle 3 catenelle. Facciamo la seconda, la terza e la quarta. Sarà qui che andiamo a realizzare la prima margherita. Al contrario di quanto abbiamo fatto nel primo giro, perché qui la prima margherita l'abbiamo realizzata dopo 8 maglie alte. Nel quarto giro la realizziamo dopo 4 maglie alte per garantirci la posizione alterna della margherita. Dunque sulla quarta maglia alta realizziamo le 4 catenelle e il punto basso, così come sempre. Avremo dunque il lavoro in questa posizione. Realizzati i nostri 10 punti alti, sormontati da un pippiolino, andiamo a chiudere come abbiamo fatto sinora. Così, tirando dentro la solina e realizzando una catenella. Ora dobbiamo realizzare 8 maglie alte. Ci ritroveremo così a metà strada tra una margherita e l'altra del giro precedente. Dunque andiamo a procedere così. Entriamo nella prima maglia alta che troviamo libera. e realizziamo 8 maglie alte. Dove poi realizzeremo la margherita. Ecco, inutile continuare, sarei ripetitiva. Questo è il nostro prato di margherita. Primo giro di maglie alte. Secondo giro, la prima margherita va realizzata dopo 4 catenelle. O dopo 8, dipende da come vogliamo posizionarle. Poi facciamo un giro di maglie alte per il ritorno. E nel successivo giro, le margherite devono risultare in posizione alterna. Quindi, se nel primo giro abbiamo fatto la prima margherita dopo le prime 4 maglie alte, nel quarto giro faremo le margherite dopo le 4 maglie alte. Quindi alterneremo 4 e 8. Iniziamo prima con 4, poi con 8. Con 4 e con 8. Avremo così una posizione alterna ed eviteremo che le margheritine si sovrappongano le une alle altre. Spero che il video vi sia piaciuto. Iscrivetevi al canale, attivate la campanella e lasciatemi qualche messaggio, qualche like. Grazie. Grazie. Grazie.